E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Anto e Manfri e oggi faremo voti più reaction a Palermo Turris che purtroppo è finita 1-0 per la Turris con il gol della Turris al 95esimo però i minuti di recupero erano 6 secondo me sti 6 minuti di recupero ci stavano però secondo me questa cosa che buttano tutti dentro all'ultimo minuto non ci sta perché se poi ti fanno un contropiede 6 senza portiere sei fottuto sei fottuto Palermo Turris 1-0 e Palermo ha giocato partita così così la Turris molto meglio perché si chiudono sempre in difesa niente la Turris è una scuola porta perché ora sta qui quarta per questa vittoria e niente ora passo la linea ad Anto e Manfri e Palermo questo oggi della sconfitta di Palermo Turris 1-0 finita 1-0 per fortuna molto fortuna allora oggi sarò i voti che saranno moltissimi fidatemi fidatemi che quello più alto è il 7 allora Pelagotti sei al minchi sei a carni sei e mezzo Marconi sei più cioè oggi è di chiara però sei lì se avete che chiara? ehm ehh a Cardi ah no a Cardi lo certo ok ciao Crivello sei e mezzo ehm 5 e mezzo Oddion sei Canutè 5 e mezzo ehm Raudi sei meno no ehm non ha giocato bene non ha giocato bene non ha giocato bene proprio al Palermo poi Floriano 7 l'unico che si è preso in vuoto e decente più della successenza ehm Saranisi 5 e mezzo ecco quelli che sono entrati che sono stati comunque stifosi ehm Martin 5 Filippo 6 e mezzo Valente 5 e mezzo ehm mister bello sei vabbè il mister aspetta bellini sono dimenticati di dire comunque sei e il mister sei meno perchè tu amo a te sei scarso cioè sei meno sei meno il mister mi dispiace e la squadra sai mi dispiace anche per la squadra è molto mi dispiace per la squadra perchè alla fine si stava giocando benissimo cioè era partita molto bene anche se aveva aveva avuto un piccolo contrattempo che è un modo così ehm niente ragazzi per questo video è tutto ehm quale tanto il mouse molto dispiatori niente ragazzi iscrivetevi e lasciate like lasciate like per disperazione ciao ciao